Stefania Di Prospero, una delle 14 lavoratrici della mensa della caserma Cesare Battisti, avete fatto qui un presidio pacifico questa mattina davanti alla sede del Comune e che cosa chiedete? Allora, abbiamo presidiato il Comune in attesa che il Sindaco ci desse delle risposte chiare ed effettive sul futuro della caserma Cesare Battisti, cosa che purtroppo non è avvenuta perché ha i suoi impegni. Noi oggi vogliamo far presente anche una cosa, che abbiamo creato anche un disservizio all'interno della caserma Cesare Battisti, poiché gran parte delle persone che vedete qui non hanno eseguito il solito servizio di ristorazione. Questo per far vedere che noi crediamo in quello che stiamo facendo oggi. Quindi al Sindaco chiediamo, uno, risposte chiare e certe, due, la possibilità eventuale di riqualificarci all'interno di eventuali progetti che si dovessero realizzare all'interno della caserma Cesare Battisti.